Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti alla nuova puntata di Radio Migrante in collegamento telefonico, come di consueto, Shoukri Saeed. E in studio Andrea Billau, buongiorno. Una settimana molto intensa di avvenimenti, cominciamo da domenica scorsa, attraverso l'articolo di lunedì 11 aprile della Repubblica di Paolo Gibrera sui domeni lacrimogeni sui profughi. Una giornata di scontri, lacrimogeni, di proiettili di gomma, di bambini e mamme in fuga tra i campi per evitare i gas sparati dagli agenti. Almeno 260 profughi ospitati nel campo di Domeni al confine tra Grecia e Macedonia sono stati curati dai medici senza frontiere dopo aver tentato disperatamente e inutilmente di oltrepassare la barriera di acciaio protetta dalla polizia macedona. Volevano proseguire il viaggio verso il nord Europa, sono finiti male. Sei ricoverati in ospedale, 200 intossicati dai lacrimogeni e una sessantina di feriti e contusi, una metà dei quali colpiti da proiettili di gomma. La situazione nel grande campo, che ospita 11.000 persone, è precipitata in mattinata dopo che 5 rappresentanti dei migranti hanno raggiunto i poliziotti macedoni al confine, chiedendo se fosse vero che la Macedonia avrebbe riaperto temporaneamente il confine come facevano credere i volantini distribuiti nel campo, invitando a rimettersi in marcia ieri mattina. Al no, senza tentennamenti dei poliziotti, un'onda di centinaia di persone, tra cui decine di bambini, ha tentato di forzare il confine, scatenando la repressione della polizia macedona davanti agli occhi dei colleghi greci che hanno osservato senza intervenire. Più tardi, il governo greco ha definito pericoloso e deplorevole l'uso indiscriminato di agenti chimici, proiettili di gomma e granate stordenti contro persone vulnerabili. Il gas ha raggiunto anche il campo, costringendo famiglie intera a scappare, mentre alcuni dei profughi respinti lanciavano pietre agli agenti, oltre la recensione. Questa è la cronaca della scorsa domenica e il giorno dopo il manifesto, nel martedì 12 aprile, riportava questo articolo sulle conseguenze anche dei rapporti tra Macedonia e Grecia dopo questi fatti. Rischiano di trasformarsi in un incidente diplomatico, gli scontri avvenuti al confine greco dei domeni tra migranti e polizia macedona, e con reciprochi scambi di accuse tra i due stati. Alexis Tsipras ha definito ieri vergognosa la decisione della polizia di Scopia di caricare con gas lacrimogene e proiettili di gomma alcune centinaia di migranti che domenica hanno tentato di superare la recensione che separa al confine dopo che si era sparsa una falsa voce di una possibile riapertura della frontiera. Qui vengono gli assunti, insomma, le cose che abbiamo letto. Gente che non rappresentava nessuna minaccia e che non era armata, ha detto il premier greco, è una grande vergogna per la società europea e per un paese che vuole farne parte. Lo stesso concetto è espresso anche dal presidente Lenico, per il quale non c'è posto nell'Unione Europea e nella Nato per l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia. Da parte sua Scopie ha accusato la polizia greca di aver assistito agli scontri senza intervenire per fermare i migranti che stavano prendendo d'assalto la recensione. La violenza, di quanto è accaduto, è provata anche dai riferti stilati dai medici che hanno prestato soccorso ai circa 300 migranti feriti. Poi ancora si dice un bilancio pesante al quale vanno aggiunti anche 23 agenti macedoni feriti, ma che se noieri nessuna istituzione europea si è sentita in dovere di condannare. La portavoce della Commissione Europea, Mina Andreva, si è limitata a ricordare che le migliaia di persone presenti ai domeni dovrebbero essere ricollocate oppure essere ospitati in centri di accoglienza in Grecia e non dovrebbero tentare di continuare un viaggio illegale e pericoloso. Non la pensa ovviamente così il portavoce dell'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite, Filippo Grandi, che ha definito preoccupante quanto è accaduto ai domeni. Ancora una volta abbiamo visto tensioni crescenti in varie frontiere europee tra le forze di sicurezza e persone che fuggono dalla guerra. In questo modo si danneggia la percezione del rispetto ai rifugiati e la stessa immagine dell'Europa. Quindi si dice anche poi sempre nell'articolo, dopo quelli di domenica, altri momenti di tensione potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Grecia e questa volta la responsabilità non sarebbe della polizia macedona e le autorità greche sono infatti intenzionate a trasferire i migranti che si trovano sia ai domeni che nel porto del Pireo. Se si escludono i profughi rinchiusi negli hotspot sulle isole, si tratta di due situazioni di maggiore emergenza. Fino a qualche giorno fa al Pireo si trovavano 5.700 persone alloggiate alla meglio nelle sale di attesa dei passeggeri in tende montate sulla banchina, ma anche costrette a dormire all'aperto. Uomini, donne e tantissimi bambini che insieme a tutti gli altri il governo vorrebbe trasferire in nove nuovi campi allestiti intorno alla capitale. Sia ai domeni che al Pireo però le persone si rifiutano di muoversi nel timore di essere trasferiti in Turchia. Questa è la situazione, tra poco affronteremo anche il capitolo dell'applicazione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia. Intanto il tuo commento, Shugri. Guarda, il fatto è che sono chiarissimi, perché hanno questi aspetti sinceramente del tutto inaccettabili, perché qui assolutamente questo comportamento criminale viene sticcato dall'Unione Europea, perché questo è la base principale di questi comportamenti e scaturiscono il famoso femmigerato accordo dell'Unione Europea con la Turchia. E' evidente che queste cose e altre cose, se non si interviene, succederanno anche altri disastri, nonostante che le persone stanno soffrendo su quelle condizioni, quel contesto che hai appena detto. Quindi noi possiamo dire che l'ONU non si deve limitarsi soltanto di una semplice contanna, perché Convenzione di Cinevera sono stati firmati sotto le città dell'ONU dalla comunità internazionale, parte più evoluta che porta bandiera e l'Europa che si comporta così. Quindi l'ONU ha il dovere di trovare una soluzione accettabile per queste persone, per questi rifugiati. Uno, secondo luogo fa bene il governo greco a prendere la distanza di questa situazione, però allo stesso momento il problema è nato dentro Commissione Europea, organo di governo dell'Unione Europea che ha fatto questo accordo. Allora, questa situazione non si riesce, perché queste persone non hanno nessun motivo di tornare, andare in Turchia, perché loro non provengono dalla Turchia, non hanno niente dalla Turchia, sono rifugiati e profughi prevalentemente siriani, sappiamo condizioni di Siria o com'è, allora va trovata una soluzione. L'ONU e l'Unione Europea devono trovare una soluzione di accoglienza per questi profughi, perché non si può fare scarica palilla con la vita della gente. E' chiaro che questi falchi, forte della legitimezione dell'accordo dell'Unione Europea-Turchia, tengono mani libere e commettono questo crimine, perché sanno che questo non c'è nessuno che li vuole difendere. Tutto qua. Ecco, vediamo allora proprio qualcosa sull'accordo Unione Europea-Turchia. Innanzitutto un'Asca News del 12 aprile che ci dice che il governo greco, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere che le risposte alle centinaia di domande di asilo presentate in Grecia saranno fornite entro due settimane. I primi risultati delle domande d'asilo saranno pronti tra una quindicina di giorni. La fase successiva di applicazione dell'accordo comincerà sulla base dell'accordo UE-Turchia e i migranti, le cui domande vengono respinte o che non hanno presentato domanda, saranno rinviati appunto in Turchia. Fino ad oggi 325 persone che non avevano depositato una domanda in asilo sono state rinviate in Turchia. E Avramopoulos, il commissario europeo all'immigrazione, ha reso noto che l'Unione Europea ha accolto 74 rifugiati siriani dalla Turchia e ne ha rimandati indietro sempre in Turchia oltre 300, secondo quanto previsto dall'accordo. E ha detto che l'attuazione dell'intesa resta una sfida. Cosa comporta poi questo per chi è in Turchia e vuole comunque andarsene, come ricordavi te, dalla Turchia? Ce lo dice Mariano Giustino, che è il corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia e ha scritto un articolo per il manifesto del 13 aprile e leggiamo una parte di questo articolo che dice Il controverso accordo stipulato tra Ankara e Bruxelles per aggirare il flusso dei rifugiati verso l'Unione Europea sta mostrando i suoi gravissimi e penosi limiti. Le organizzazioni non governative, come l'ONHCR e Amnesty, sono particolarmente allarmate per il invio dall'isola greca alla Turchia dei rifugiati perché temano che non vi siano adeguate garanzie di correttezza nelle procedure e che i rientri si trasformino dunque in vere e proprie deportazioni. Inoltre, l'accordo, se da un lato sta producendo un drastico calo delle traversate nel mare Egeo, dall'altro sta già provocando il cambiamento delle rotte dei migranti che puntano non più alle coste della Grecia ma a quelle del Mar Nero e del Mediterraneo. Anche i prezzi degli attraversamenti imposti dai trafficanti di esseri umani stanno cambiando. Un passaggio verso le isole greche costava, fino a poche settimane fa, circa 2.000 dollari. Adesso ne costa solo 100. La tariffa per le nuove rotte è di 5.000 dollari e consente di attraversare il Mar Nero e quindi lo sbarco sulle rive rumene e bulgare o l'eventuale attraversamento del Mediterraneo. Ecco, anche questo è molto interessante perché ci dà il quadro di come poi appunto si chiude un canale e il flusso poi passa a un altro, è evidente. Ma guarda, perché il paradosso di tutto questo, Andrè, è quello che si è parlato, si è raccontato che i governanti nostri fingono di non sapere, invece sanno benissimo perché queste persone non è che vengano così e non hanno un'assistenza. Queste persone, le barchette, le carrette della Fortuna, sembrano che le carrette stanno così. No, c'è un'organizzazione criminale, capillare del tutto il mondo, che organizza questi viaggi, che sono super organizzati. Stanno per tutti e stanno anche da noi, perché tutte le criminalità mondiali si è unita a questo traffico degli esseri umani. Allora, detto questo, certo, appena una porta si chiude, si apre un'altra, ma sono sempre porte infernali, cirevoli. Quindi, chi paga questa cosa sono le vittime, perché aumentano i rischi dei perditi delle vite umane, no? E allora muoiono, ma arrivare arriveranno, non perché poi da soli se tu gli fai un trattato non arriva, no, gli fanno arrivare quelli che ci lucrano, che prendono i soldi, punto. E quelli rimangono impuniti, perché non c'è nessuna Europa che fino ad adesso ha seriamente combattuto per smantellare. Dicono che devono fare intercettazione, perché non intercettano tutti questi che fanno traffico di esseri umani, anziché di sbubbinare sempre le conversazioni innocue della bovara gente? Sì, tra l'altro, comunque sia, poi questa è la mia opinione, anche se si facesse, appunto, si smantella una rete, se ne ricrea un'altra, perché comunque il bisogno c'è e quindi i fenomeni non si possono trattare con il proibizionismo quando esistono. E io ti voglio però adesso leggere l'altra questione, quella dell'Austria, perché cominciamo dal 12 aprile, quando sono iniziati, a passo del Brennero, in territorio austriaco, vicino all'area di servizio autostradale, a poche decine di metri, dove prima dell'ingresso degli accordi di Schengen esisteva al confine, i lavori per la costruzione della barriera finalizzata ad impedire l'ingresso incontrollato di migranti in Austria provenienti dalla rotta mediterranea, due ruspe hanno sollevato una parte dell'asfalto, viene raccontato, insomma, i lavori e tutto questo per consentire la messa in opera della struttura che sarà lunga 250 metri, cioè la larghezza complessiva del valico. E l'Italia, che cosa ha fatto? Ha ribadito, questo sempre, questo il giorno dopo, ha ribadito a Bruxelles che occorre valutare le misure annunciate dall'Austria al Brenner in base ai criteri di necessità e proporzionalità. La posizione italiana è stata espressa dall'ambasciatore Carlo Calenda, capo della rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, in occasione della riunione del Core per i rappresentanti permanenti dei 28 che preparano i lavori dei consigli dell'Unione. La richiesta era stata già espressa dai ministri Angelino Alfano e Paolo Gentiloni in una lettera inviata al commissario europeo Avramopoulos. Vienna, invece, non capisce questa agitazione italiana perché prendiamo dal giorno prima già una dichiarazione del ministro dell'interno austriaco Mikl Leitner, che ha giudicato non comprensibile l'agitazione in Italia per l'avvio dei lavori per i controlli del confine al Brennero. Secondo la ministra, viene ora messo in pratica puntualmente quanto già annunciato da settimana e messo sul tavolo in maniera chiara anche la scorsa settimana a Roma. Ma c'è chi è andato oltre, ed è il ministro socialdemocratico, lo prendiamo da Repubblica del 15 aprile. Falco non da oggi ha già minacciato di mandare la polizia al confine con l'Italia. Il ministro della difesa austriaco Hans-Peter Dozil, socialdemocratico, si è giunto ieri al coro di intimidazioni del suo governo. Mentre le ruspe preparano la frontiera Italia-Austria che ha l'eventuale ripristino dei controlli e è un'altra barriera in preparazione al confine con l'Ungheria, il ministro socialdemocratico ha spiegato durante il congresso tirolese del suo partito che se l'Italia si comporta come ci aspettiamo si comporti, cioè se lascia passare i migranti e i profughi verso il Brenner, la Germania si comporta come ci aspettiamo che si comporti, cioè li respinga al confine con l'Austria, il suo paese rischia di diventare una sala d'attesa. In questa situazione estrema ha puntualizzato che il Brennero verrà chiuso. Il passo successivo, senti bene Shukri, sarà quello di pretendere dall'Italia di poter fare controlli anche sul lato italiano. italiano. Ecco, prima di darti la parola leggo l'ultima agenzia che riguarda questa questione ed è del 15 aprile. La Commissione europea sta preparando una lettera da inviare al governo austriaco sulle misure adottate da Vienna. Lo si prende da fonti dell'Unione. Il governo austriaco aveva promesso che avrebbe inviato chiarimenti a Bruxelles sulla materia ma ancora non lo ha fatto. Shukri. Ma guarda, per fortuna io non sono Presidente del Consiglio, tantomeno sono portavoce della Lega, quindi mi estengo qualunque commento forte, colorito, eccetera. Questo certamente è un problema grande, è un problema che riguarda soprattutto l'Unione europea e la responsabilità che ha nei confronti dei suoi alleati che sono cittadini dell'Unione europea e i loro governanti. Il governo italiano che garante per noi cittadini italiani di questo imbarazzo, tutte queste persone devono gestire che cosa è Europa, ma presto lo devono fare, perché abbiamo bisogno di capire che cosa è Europa. Se Europa è semplicemente tasse, restrizioni di metterci per le rime ogni volta che sgarriamo una cosa, o se è una collettività che ha una visione della vita e una concordia comune per gestire appunto queste frontiere che sono stati abbandonati e tolti con una decisione, anzi trattati molto importanti, Aulici, Robuanti, Mastrid, Guadila, Ibramitri, tutti i soldi che abbiamo pagato noi italiani per entrarci in Europa, tasse che ci hanno fatto fare, votazioni che ci hanno fatto fare, tutto quello che abbiamo fatto, adesso loro devono darci una risposta, perché noi non dobbiamo rispondere a Austria, devi Unione europea e Unker che devono dare risposte brevi e esaustivi se Europa esiste oppure no. Io non sono quelli che baventano del ritorno della lira, però c'è un sacco di gente che in Italia è contenta di riavere e suellire, no? Sì, certo. No, infatti guarda che comunque, sì, purtroppo, sì, comunque diciamo che la situazione, in effetti gli sbarchi sono aumentati in modo vertiginoso, per esempio, vediamo che l'11 aprile si diceva, la Scan News riportava che erano stati tratti in salvo 1.850 migranti, nella giornata del venerdì 15 aprile, l'Organizzazione Internazionale per Immigrazione ha detto che circa 6.000 migranti sono arrivati sulle coste italiane in cinque giorni. Ecco, di fronte a questo ci sono appunto le prese di posizione. Innanzitutto voglio leggere un comunicato di Radicali Italiani che propone al governo italiano un diverso approccio e poi vediamo invece che cosa vuole fare il governo italiano. Dopo aver messo in discussione, appaltandola alla Turchia, il diritto d'asilo e il dovere di farsi carico di chi fugge dalla guerra, i paesi europei continuano a infrangere i principi di solidarietà tra gli stati e leale cooperazione e vanno a intaccare la libera circolazione delle persone e delle merci, lo dice il segretario di Radicali Italiani Riccardo Maggi. Le ultime settimane sembrano svelare un disegno chiaro. Da un lato chiusura della rotta balcanica con l'isolamento e l'abbandono della Grecia incapaci di gestire le decine di migliaia di richiedenti asilo bloccati nei campi e la conseguente minaccia di commissariamento della gestione della frontiera esterna con l'inevitabile uscita da Schengen. Dall'altro la chiusura delle frontiere interne con l'Italia a cominciare da quella con l'Austria soprattutto in previsione dello sbarco sulle nostre coste di centinaia di migliaia di persone di cui da soli dovremo farci carico sperando che il nostro sistema di accoglienza regga col rischio che sbattano fuori anche noi. Per impedire che questo disegno si compia c'è un'unica soluzione che il governo italiano può adottare nell'immediato. Stringiamo un accordo con la Grecia rendendoci disponibili a ospitare parte dei profughi bloccati lì e chiediamo ad altri stati membri in particolare alla Spagna di fare altrettanto con noi per creare così un fronte di paesi solidali che imponga all'Unione Europea un cambio netto di linea. Infatti, riconoscendo ai profughi siriani, irachiani e afghani una forma di protezione temporanea a livello nazionale con il rilascio immediato di un permesso di soggiorno che consenta loro di spostarsi nell'Unione Europea costringeremmo i singoli stati membri ad assumersi le responsabilità di respingere alle frontiere persone con un documento valido in mano. Di fronte al fallimento costante delle azioni dell'Unione Europea e al tentativo di mettere in discussione il sistema europeo dei diritti tocca anche al nostro paese patria di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni impegnarsi concretamente per salvare l'Europa. Questo dicono i radicali italiani ma senti bene che cosa invece vuole fare il governo italiano perché ieri nella giornata di venerdì 15 aprile la Repubblica scriveva questo Alberto Dargenio scriveva questo La crisi dei migranti si risolve tutti insieme con questo spirito l'Italia sta preparando una lettera ad inviare all'Unione Europea in iniziativa ad ampio respiro che a Palazzo Chigi hanno già ribattezzato Immigration Compact sulla falsa riga del fiscal compact imposto dalla Germania in campo economico nel 2012. D'altra parte soltanto l'Europa può aiutare Roma a gestire l'ondata di migranti in arrivo dalla Libia e in queste ore l'Europa proprio non sta aiutando con l'Austria che alza le barricate al Brennero rischiando di trasformare l'Italia in un enorme campo profughi isolato dal resto del continente. Il timore di Roma è che le fazioni contrarie al governo di Unità Nazionale Libico guidato da Serrai entrato solo 12 giorni fa a Tripoli usino la bomba migranti per screditarlo di fronte alla comunità internazionale. Di fronte a un quadro tanto a rischio Matteo Renzi sta studiando l'offensiva italiana in Europa. Se la lettera di proteste di Gentiloni Alfano di pochi giorni fa a Bruxelles era una specifica richiesta di intervento dell'Unione Europea contro l'avvio della costruzione della barriera austriaca ora si lavora un'iniziativa organica su tutti gli aspetti del fenomeno migratorio. I tecnici di Palazzo Chigi proprio in queste ore stanno limando la lettera che nei prossimi giorni sarà inviata partendo dal presupposto che l'Italia è il paese che più sopporta eccetera eccetera. La vera novità l'Italia chiederà che l'Europa e per questo serve lo che dei governi accelli sugli accordi con i paesi di transito e di origine dei migranti specialmente quelli che vengono da paesi non considerati a rischio e cui i cittadini non vengono riallocati dentro l'Unione Europea a quelli di transito fondi per non farli passare a quelli di origine soldi affinché blocchino le partenze ma il tema centrale è quello della Libia specialmente con l'estate che si avvicina. Per questo Stiamo valutando se e come inserire la Libia nella nostra iniziativa. Il punto è capire quanto alzarà e riuscirà a dimostrarsi operativo. E poi si dice ancora la richiesta del Premier era di trattare la Libia come la Turchia ovvero lavorare a un accordo organico tra l'Unione e Tripoli in grado di bloccare le partenze verso l'Italia. Capito? In queste ore tra Palazzo Chigi Fanesini e Viminale si riflette come esplicitare la richiesta a giorni però il Premier libico confidano a Roma dovrebbe finalmente inviare all'Unione Europea le richieste di aiuto per stabilizzare la sua presenza. Inizialmente dovrebbe chiedere l'invio di qualche centinaio di addestratori europei 50 dei quali sarebbero italiani. Gli europei dal canto loro prestano affinché al Sarai chieda anche di estendere alle sue acque territoriali la missione navale europea antiscafisti che al momento opera nel canale di Sicilia a largo delle coste libiche. Sarebbe un primo passo per tamponare le partenze al quale l'Europa questa la speranza italiana potrebbe agganciare un piano di collaborazione con la Libia per stoppare del tutto i barconi appunto sul modello del patto ottenuto da Angela Merkel il mese scorso con la Turchia che in cambio di 3 miliardi di euro si è impegnata a tenersi siriani che partivano verso le isole greche il messaggio italiano sarà chiaro avete sistemato il fronte balcanico ora tocca al canale di Sicilia prima che l'esodo del nord Africa diventi insostenibile No guarda due cose non c'è paragone perché quella dei radicali è una cosa seria è un cervello che ha meditato e buon senso quest'altra cosa è una cosa che intanto non si capisce e pure anche una cosa crudele perché quella di far lasciare Libia che è una parte occupata dell'ISI per quelli che poi vengono Africa subsahariana e altre parti che non sono dal posto farlo rimanere lì come una inchigliottina è un'altra cosa che la lettera questa del proposto dal governo speriamo che non sia così speriamo che non abbiano il coraggio di mettere in pubblico una cosa a vergogna del genere è quello di dire Eritrei non potete uscire così regalare fare a guzzino anche quelli bocchi che scappano di farlo rimanere con Afawerki e cioè è una cosa assolutamente inaccettabile ci sono altre vie che si può tentare prima cosa è l'uscita del trattato di Schengen perché io normalmente di Dublino vuoi dire di Dublino scusami e questo è la cosa che io se fanno così è entro breve tempo non diano una risposta esaustiva perché il problema è di ripetizione e libera circolazione l'idea buona è questa di dare un permesso di soggiorno che hanno detto i radicali e ovviamente non credo che Renzi che adesso sta preso con cominciato il discorso di Berlusconi di regalare prima delle votazioni 40 euro così adesso che ha referendum due referendum affronterà una cosa del genere no? però la cosa che io stanto così uscirei trattato di prima che mi revocchino come Grecia che poi non lo faranno esco perché hanno firmato i Berlusconi e i suoi stavamo così bene prima che i migranti venivano qua coglievamo e andavano dove ci berevano non stavamo qua ci hanno fatto firmare questo c'è un sacco di cosa buona con step child adoption che fanno con i carceri eccetera e noi non li facciamo e non rettifichiamo ma dobbiamo rettificare le cose brutte che come boomerang ci torna in faccia cioè è veramente incredibile essere così sì e purtroppo però questa è la realtà e bisogna dire che nelle istituzioni europee c'è solo un'istituzione che però conta di meno bisogna anche dire che il Parlamento europeo che invece ha approvato una risoluzione proprio per superare il regolamento di Dublino e salvare Schengen e questa risoluzione è stata votata a larga maggioranza 459 voti contro 206 52 astenuti ed era una risoluzione sulla base di un rapporto dell'ex ministro italiano dell'integrazione oggi eurodeputata del PD Cecil Chiang e della maltese Roberta Mezzola del Partito Popolare questa almeno una buona notizia anche se purtroppo è come dire veramente una rondine che purtroppo non fa primavera invece io Sciucri in conclusione adesso della nostra trasmissione perché abbiamo praticamente concluso il tempo scusa che ti interrompo possono fare un'altra cosa devono far cadere commissione un care a questo punto perché è inutile e dannoso non è che possono fare un sacco di cose farà uno di rievocare questa commissione il mandato sì infatti è una delle cose di cui si parlava infatti qualche mese fa allora per concludere Sciucri io direi che noi stiamo registrando diciamo i nostri ascoltatori nella giornata appunto del venerdì 15 aprile e domani cioè quando loro ci ascolteranno sabato il Papa sarà a Lesbo allora io voglio già da ora poi ne parleremo magari nella prossima settimana ringraziare Francesco Papa Francesco Bergoglio insomma per questa rinnovata sensibilità che insomma gli fa onore in un mondo in cui invece come direbbe lui regna la globalizzazione dell'indifferenza insomma vabbè molto buono però come radicale di Radio Radicale ringraziare in anticipo il Pantefice non è davvero radicale i laici quindi io ringrazierò dopo il fatto avvenuto quanto vedrò che cosa ha ottenuto il percorso a me mi sembra che già l'intenzione di andare lì è perfetta va bene grazie Sciucri allora ricordiamo i nostri ascoltatori come si può entrare in contatto con Radio Migrante attraverso il sito di RadioRadicale.it nella sezione rubrica cliccando su Radio Migrante dove trovate anche le rubriche precedenti noi andiamo in onda sempre il sabato alle 13.30 in replica il mercoledì alle 6 di mattina potete scrivere agli ascolto chiocciolaradioradicale.it o al sito dell'associazione migrare di cui sciugli è segretario www.micrare.eu grazie arrivederci